Allora, partiamo dalla fine del tappetino, partiamo dai piedi. Allora, incrociamo le dita e portiamo i palmi delle mani verso il basso, le braccia dritte. Iniziamo a spingere le spalle indietro, braccia dritte, il mento parallelo al terreno, la lingua sul palato. La lingua la risucchiamo sul palato, rilassiamo bene la mandibola. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Espiriamo, le abbassiamo. Quando le abbassiamo, le spalle le mandiamo indietro. Inspiro, solleviamo le braccia. Espiro, giù le braccia e mandiamo indietro le spalle. Facciamo il movimento, inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Sulle braccia, le ribe teniamo. Espiro bene la coda in avanti, l'ombelico all'interno. Risucchiamo l'ombelico. Inspiriamo, solleviamoci sulle punte dei piedi. I talloni, vi spingiamo l'uno verso l'altro. Respiro, manteniamoci sulle punte dei piedi. Espirando giù i talloni e giù le braccia. Spalle indietro. Inspiro su e sulle punte dei piedi. Espiro giù. Spalle indietro. Spalle indietro. Inspiro su. Espiro giù. Inspirando questa volta sulle braccia e su anche di poco la gamba destra. Se riesco alta, ma non è necessario, anche qui va bene. Respiro e mantengo. Espiro, piede destro a terra e giù le braccia. Spalle indietro. Inspiro su e sulla gamba sinistra. Anche di poco va bene. Manteniamo. Espiro giù il piede e giù le braccia. Spalle indietro. Inspiro sulla gamba destra. Espiro giù. Inspiro sulla gamba sinistra. Espiro giù. Iniziamo ad aumentare il giro dei respiri e la velocità. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. I. E. Inspiro. Espiro. Inspirando ora sulle braccia e sulle punte dei piedi. Espirando giù i talloni, mantengo le braccia su ed inspiro sulla gamba destra. Espirando. Piego leggermente la gamba sinistra e porto il piede destro appoggiato sopra la coscia sinistra. Il ginocchio destro spinge verso sinistra. Respiro. 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 Mantengo. La coda leggermente in avanti. Respiro. Il piede destro spinge sopra la coscia sinistra. Respiro. Ispirando. Su allungo la gamba sinistra e in avanti la gamba destra. Espiro giù le braccia e giù la gamba. Inspirando sulle braccia e sulle punte dei piedi. Espiro. Talloni a terra, mantengo le braccia dove sono. Inspiro sulla gamba sinistra. Espirando, piego la gamba destra e appoggio. Mantengo il ginocchio sinistro spinge verso destra. Respiro. Mantengo e respiro. Inspirando, allungo la gamba destra e la gamba sinistra. Espiro, piedi a terra e giù le braccia. Le spalle indietro, mi raccomando. Ogni volta che le braccia vanno in giù, le spalle vanno indietro. Di nuovo. Inspiro sulle braccia e sulle punte dei piedi. Espiro giù le braccia e giù i talloni. Inspiro sulle braccia e sulla gamba destra. Espiro giù la gamba e giù le braccia. Inspiro sulle braccia e sulla gamba sinistra. Espiro giù la gamba e giù le braccia. Inspiro sulla gamba destra e sulle braccia. Espirando, mi appoggio. Espirando, scendo quanto mi è più possibile, il petto alto. Inspiro, allungo la gamba destra e sinistra. Espiro giù. Inspiro sulla gamba sinistra, sulle braccia. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro giù. Inspiro sulle braccia e sulle punte dei piedi. Espiro giù i talloni e giù le braccia. Inspiro sulla gamba destra e sulle braccia. Alta la gamba ora. Espiro giù. Inspiro sulle braccia e sulla gamba sinistra. Espiro giù. Inspiro sulle braccia e sulla gamba destra. Espiro, mi appoggio. Inspiro, di nuovo allungo. Espiro giù. Inspiro sulla gamba sinistra. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro giù. Inspirando, questa volta, braccia in avanti. Le tengo parallele al pavimento. Espirando, ruoto i dorsi delle mani in avanti. Bene, faccio il segno dell'ok con entrambe le mani. Mantengo la postura. Con gli occhi, guardo i pollici. Respiro. Inspirando, sulle punte dei piedi e sulle braccia. Questa volta, lo sguardo segue i pollici. Espirando, giù i talloni e braccia in avanti. Lo sguardo segue i pollici. Inspiro, di nuovo su. Espiro, di nuovo giù. Inspiro, di nuovo su. Espiro, di nuovo giù. Inspirando, sulle braccia e sulla gamba destra. Con lo sguardo, seguo i pollici. Espiro, giù. Inspiro, sulle braccia e sulla gamba sinistra. Con lo sguardo, seguo i pollici. Espiro, giù. Inspirando, sulle braccia e sulla gamba destra. Espirando, sulle braccia e sulla gamba destra. Respiro. Inspiro, di nuovo allungo. Espiro, di nuovo giù. Seguo i pollici. Inspiro, sulla gamba sinistra. Espiro, mi siedo. Di nuovo appoggio il piede sinistro e giù. Mettiamo in discussione un po' l'equilibrio e respiriamo. Inspirando, allungo. Espiro, di nuovo giù. Di nuovo da capo. Inspiro, sulle braccia, seguo con gli occhi pollici e sui talloni. Espiro, giù. Inspiro, sulle braccia e sulla gamba destra. Espiro, giù. Inspiro, sulle braccia e sulla gamba sinistra. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba destra. Espiro, mi siedo. Inspiro, di nuovo allungo. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba sinistra. Espiro, mi appoggio. Inspiro, di nuovo allungo. Espiro, giù. Mi fermo. Ruoto i palmi delle mani in avanti. Inspirando, ruoto verso destra con le braccia dritte e lunghe. Espiro, torno. Inspiro, ruoto verso sinistra. Espiro, torno. Inspiro, braccia su verso il cielo. Espirando, questa volta, piego i gomiti verso l'esterno e appoggio le mani dietro la nuca. Bene i gomiti verso l'esterno, noi in avanti. Le spalle ormai sono pronte, sono sempre andate all'indietro. La coda in avanti. Inspiro, sollevo sui talloni. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba destra. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba sinistra. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba destra. Espiro, mi appoggio. Inspiro, allungo. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba sinistra. Espiro, mi appoggio. Inspiro, allungo. Espiro, giù. Inspirando, ruoto tutto il busto verso destra. Espirando, torno. Inspiro, ruoto tutto il busto verso sinistra. Espirando, torno. Inspiro, allungo le braccia e su con i talloni. Espiro, giù le braccia e giù i talloni. Inspiro, sulle braccia e sulla gamba destra. Espiro, giù. Inspiro, sulle braccia e sulla gamba sinistra. Espiro, giù. Inspiro, sulle braccia e sulle braccia e sulla gamba sinistra. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro, giù. Inspirando, in avanti. Espirando, di nuovo. Bene, i pollici. Riproviamo bene con l'equilibrio. Fissiamo i pollici. Inspiro, sulle braccia e sui talloni. Sulle punte dei piedi, scusate. Sui talloni. Espiro, si scende. Inspiro, sulla gamba destra. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba sinistra. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba destra. Espiro, mi siedo. Inspiro, di nuovo allungo. Espiro, giù. Inspiro, sulla gamba sinistra. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro, giù. Inspirando, di nuovo. Ruoto i palmi delle mani. Su, verso il cielo. Espiro, gomiti verso l'esterno. Ruotiamo verso destra e verso sinistra. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Bene, lentamente sgancio le mani. Le porto lungo il corpo. Porto il più due le mani. Ruoto i polsi. Respiro. Ed ispirando, braccia libere sulla gamba destra e sulle braccia. Espirando, piego il ginocchio sinistro e porto in avanti il piede destro. Piego il ginocchio destro. Inspiro. Spingo sul piede destro. Sollevo la gamba sinistra. Espirando, scendo in avanti con le mani a terra e su verso l'alto la gamba sinistra. Inspiro. Espiro. Piego il ginocchio destro e su. Inspiro. Espiro. Mani a terra. Allungo la gamba destra e allungo la gamba sinistra. Inspiro. Espiro. Ed ispirando piego il ginocchio destro e su. Inspiro. Mani a terra e su. La gamba sinistra. Inspiro. Espiro. Appoggio. Vengo su. Inspirando. Passo indietro. Incrocio di nuovo le dita delle mani e su verso l'alto. Espiro. Inspiro su con i talloni. Espiro. Giù e giù le braccia. Sgancio. Apre e chiudo le mani. Ruoto i polsi. Libere le braccia. Su. Verso l'alto. Inspiro. Sulla gamba sinistra. Espiro. Piego il ginocchio destro. Appoggio il piede sinistro. Inspirando. Allungo la gamba sinistra e sulla gamba destra. Espiro. Scendo. Mani a terra. Inspiro. Espiro. Piego il ginocchio destro. Appoggio il ginocchio sinistro. Appoggio il piede destro e su. Inspiro. Espiro. Scendo. Mani a terra. Inspiro. Sulla gamba destra. Espiro. Scendo. Inspiro. Espiro. Giù. Inspiro. Sulla gamba destra. Espiro. 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 Inspiro. Espiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Espirando. Bene. Appoggio il piede a terra. Espiro. Vengo su. Espiro. Vado indietro. Giù le braccia, apri e chiudo le mani, ruote i polsi, mettiamo tutto in sequenza, tutto fluido, respiriamo, inspiriamo, incrociamo le dita delle mani e su, espiro un vellico all'interno, spiro, inspiro sui talloni, allungatevi bene verso l'alto, espiro, talloni a terra, inspiro sulla gamba destra, espiro giù le braccia e giù la gamba, spalle indietro, inspiro sulle braccia e sulla gamba sinistra, espiro giù le braccia e giù la gamba, spalle indietro, inspiro sulla gamba destra, espiro, mi siedo, inspiro di nuovo allungo, espiro giù le braccia e giù la gamba, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, mi siedo, inspiro allungo, espiro giù, inspirando in avanti, espirando bene i pollici, inspiro, proviamo a seguire bene con lo sguardo i pollici sui talloni, espiro giù, inspiro sulla gamba sinistra e sulle braccia, espiro giù, inspiro sulla gamba sinistra e sulle braccia, espiro giù, inspiro sulle braccia e sulla gamba destra, espiro, mi siedo, inspiro di nuovo allungo, espiro giù, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, mi siedo, inspiro allungo, espiro giù, inspiro, inspiro sulle braccia, espiro bene i gomiti verso l'esterno, inspiro, ruoto il busto verso destra, espiro, torno, inspiro, ruoto il busto verso sinistra, espiro, torno, inspiro, inspiro, inspiro giù, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, inspiro sulla gamba destra, espiro, mi siedo, inspiro, inspiro, allungo, espiro, inspiro, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, mi siedo, inspiro, allungo, espiro, inspiro, inspiro, sulle braccia, sgancio le mani, espiro, un bellico all'interno, inspiro, sulla gamba destra, espiro, mentre piego il ginocchio sinistro, appoggio il piede destro, inspiro sulla gamba sinistra, espiro, scendo, impioco, inspiro, espiro, spiro, appoggio ed, inspirando, su, inspiro, scendo, ed inspiro sulla gamba sinistra, espiro, aspoggio ed, inspirando, su, espiro, scendo ed, inspirando, sulla gamba sinistra, espiro, inspiro, ancora una volta, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espirando vado all'indietro e giù le braccia, apre, chiudo le mani, ruoto, inspiro sulle braccia e sulla gamba sinistra, espiro, piego il ginocchio destro, appoggio il piede sinistro, inspiro sulla gamba destra, espiro, scendo, inspiro, espiro, inspiro su, 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 mi fermo, e ispirando all'indietro, giù le braccia, apri e chiudo le mani, ruoto i polsi e dovremo avere bene stabilito nel corpo un po' di equilibrio, molto più semplice ora a mantenerlo. Osserviamo bene il corpo e proviamo a portare le mani ai fianchi. Quindi, ispirando, solleviamo la gamba destra, ispirando andiamo ad accoggiare il piede destro, ormai abbiamo familiarità con la posizione, ci sediamo, respiriamo e manteniamo. Cerchiamo di avere bene l'equilibrio, non dovrebbe essere più un problema, il ginocchio che spinge sempre verso sinistra. Ispirando, portiamo le braccia su verso l'alto, ispirando le mani davanti al petto, gomiti larghi, respiriamo. Possiamo rimanere qui, intanto la posizione sinistra lavora, ma tutto questo movimento è servito per fare una posizione. Ora ci tentiamo, mantenete bene l'equilibrio e respirate. Ispirando, ruotiamo il busto verso destra, appoggiamo il gomito al ginocchio e ruotiamo. Proviamo a guardare dietro, respiriamo. Se dovete l'equilibrio basta portare i piedi a terra. Respiro. Inspirando, ritorno al centro. Espiro giù la gamba e giù le braccia. Rilassiamo bene il piede sinistro, solo con un mezzo, mani ai fianchi. Inspiro sulla gamba sinistra, rilassate il piede sinistro. Espiro, mi appoggio. Inspiro sulle braccia. Espiro, mani davanti al petto. Allora, i comici sono larmi. Le spalle sono vivere. Posso rimanere qui, se me la sento, ruoto il busto verso sinistra e mi appoggio. Respiro. Ricordate che le mani sono davanti e in mezzo al petto. Respiro. Respiro. Osservate la postura. Cercate di trovarci bene le spinte. Il gomito destro spinge il ginocchio sinistro. Respiro. Inspirando, ritorno su verso l'altro, giù la gamba e giù le braccia. Respiro, mantengo la postura, rilassi i piedi. Di nuovo, mani ai fianchi. Tendiamo di avere la gamba a destra e la gamba a sinistra dritta e lunga nel primo passaggio. Quindi, ben concentrati, inspiro su la gamba a destra dritta e lunga. Espiro, mentre piego il ginocchio sinistro, piego anche il ginocchio destro. Inspiro su le braccia. Espiro, mani davanti al petto. Inspiro, ruoto. Espiro, blocco e appoggio. Respiro, respiro. Chi trova stabilità nella postura può a un certo punto rilassare bene la coscia destra. Non serve troppa attenzione. Usate le spalle, liberate il petto. Ed, inspirando, ritorno su verso l'alto. Espiro giù la gamba e giù le braccia. Bene, dritta e lunga, la gamba a sinistra, mani ai fianchi. Inspiro su. Espirando, mentre piego il ginocchio destro, piego anche il ginocchio sinistro. Inspiro sulle braccia. Espiro, mani davanti al petto. Inspiro, ruoto. Espiro bene la torsione. Guardo dietro. Respirate, non bloccate l'espiro. Inspirando, ritorno. Espiro giù la gamba e giù le braccia. Rilassiamo i piedi. Cercate di sentire la tensione. Non ci sono molti movimenti. Osservate bene la sensazione dei piedi. Rilassate bene le cosce. Piegate leggermente le ginocchia, se serve. E di nuovo mettiamo tutto in sequenza. Facciamo bene le posture, i movimenti nelle spalle, perché tutto è finalizzato in quest'ultima postura. Inspirando, incrociamo le dita e su verso l'alto. Le spalle bene verso le orecchie, braccia dritte. Espiro l'ombelico all'interno. Espiro sulla gamba destra. Espiro giù e giù le braccia. Espiro sulla gamba sinistra. Espiro giù e giù le braccia. Saliamo sulle punte dei piedi. Inspiro, sollevo i talloni sulle braccia. Espiro giù. Inspiro sulla gamba destra e sulle braccia. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro giù. Inspiro sulla gamba e sulle braccia. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro giù. Inspirando in avanti. Espiro, ruoto. Bene, i pollici. C'è la difficoltà in questa postura per mantenere l'equilibrio. Concentrati. Guardate, fissi i pollici. Sfidatevi. Inspirando sui talloni e seguite i pollici. Espirando giù. Inspirando su. Bene. Le braccia e sulla gamba destra. Espirando giù. Inspirando sulla gamba sinistra e sulle braccia. Espirando giù. Inspirando sulla gamba destra. Espirando, mi siedo. Lo sguardo è fisso ai pollici. Inspirando, allungo. Espirando giù. Inspirando sulla gamba sinistra. Espiro, mi siedo. Inspiro, allungo. Espiro giù. Espirando. Inspirando. Srotolo bene le dita delle mani in avanti sulle braccia. Espirando, gomiti verso l'esterno. Inspiro, ruoto verso destra. Espiro, torno. Inspiro, ruoto verso sinistra. Espiro, torno. Inspirando sulle braccia. Sgancio le mani e sulla gamba destra. Espirando, piego il ginocchio sinistro. Appoggio il piede destro. E sulla gamba sinistra. Espiro, mani a terra. Inspiro, inspiro appoggio. Inspiro, spiro su. Espiro, scendo. Inspiro sulla gamba sinistra. Espiro, appoggio. Spiro su. Espiro, scendo. Espiro sulla gamba sinistra. Espiro giù. Inspiro, su. Espiro. inspiro sulla gamba sinistra espiro ed inspirando su mi fermo, espiro spingo e vado dall'indietro giù le braccia apri chiudo le mani e ruoto i polsi inspirando sulla gamba sinistra sulle braccia libere espiro, piego il ginocchio destro appoggio il piede sinistro inspiro sulla gamba destra espiro giù le mani inspiro espiro, appoggio inspiro su espiro, mani a terra inspiro su espiro inspiro su espiro inspiro su espiro inspiro ultima volta espiro inspiro espiro 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 sulle braccia espira non mi spingo all'indietro giù le braccia bene inspirando sulle braccia e sulla gamba destra espirando mi siedo inspiro espiro mani davanti al petto inspiro ruoto espiro torsione espiro facciamo tre respiri pieni due tre l'inspirando torno sulle braccia espiro giù la gamba e giù le braccia l'inspirando sulle braccia e sulla gamba sinistra espiro mi siedo inspiro inspiro espiro mani davanti al petto inspirando ruoto espirando torsione inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro inspirando torno espiro giù la gamba e giù le braccia bene andiamo davanti al tappetino solleviamo i talloni apriamo e chiudiamo le mani portiamo su verso l'alto il braccio destro portiamo il braccio destro indietro in avanti braccio sinistro guardiamo dietro respiriamo inspirando su verso il cielo entrambe le braccia espirando in avanti braccio destro indietro il braccio sinistro guardo dietro inspiro espiro su entrambe le braccia espiro braccio destro indietro braccio sinistro in avanti ruote guardo dietro inspiro su espiro braccio sinistro indietro braccio destro in avanti guardo dietro inspiro su ancora una volta espiro inspiro espiro guardo i piedi talloni leggermente verso l'esterno piedi distattati tra di loro distanti piego le ginocchia vado a sedermi dietro e lentamente scendo allungo le braccia in avanti e mi siedo allungo le gambe mento al pezzo srotolo la colonna l'ultima cosa che appoggio sono spalle e poi nuca mani sull'addome mano destra a contatto con l'ombelico mano sinistra sopra la mano destra mento in direzione del petto anche se la nuca a terra piedi rilassati creiamo bene un'onda nel corpo con il respiro quando inspiro l'addome si riempie il torace si espande fino alle spalle espirando lascia andare giù tutto verso il basso quando inspiro prima si riempie l'addome poi il torace e quando ispiro lascia andare tutto giù verso il basso è non non si riempie il torace il torace un'onda per non in Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ispiro la fronte alle ginocchia. Ispiro il petto si distanzia dalle ginocchia e poi ispirando la nuca a terra. Ultima volta, ispiro prima il petto che parte, ispirandolo a fronte alle ginocchia, ispirando il petto che si distanzia e poi la nuca a terra. Allora, al prossimo ispiro un valso e mi siedo, gambe incrociate. Con una dritta mento parallelo al terreno. Dediciamo qualche istante all'osservazione del respiro. Andiamo a scoprire dove si trova. Andiamo a scoprire dove si manifesta il respiro. Può essere nel vitturace, nell'andome, nelle spalle. Cerco di scoprire dove si manifesta, dove creare movimento. Trovo piano piano a rallentarlo, a rendere un vento lungo. E con la mia attenzione mi sposto a percepire il battito del cuore. Per percepirlo meglio, visualizzate il movimento che il corpo fa per andare a ricercarlo. E' come se gli occhi si spostassero verso sinistra e ad attivarsi all'orecchio sinistro. Deglutiamo un pari di volte. Scopriamo il suono all'interno della nuca, della gola. Le tensioni che si possono presentare all'interno della bocca. Ed ispirando facciamo un pieno respiro ampio che si espande addome e torace e fino alle spalle. Ispirando lasciamo andare in giù verso il basso. Sperimentiamo, facciamo un ispiro pieno, profondo, ampio, quanto c'è più possibile. Si deve espandere addome, torace, spalle. Ispirando lascio andare ancora un paio di volte. Lentamente portiamo le mani davanti al tetto nei segni della preghiera. Ispiro. Namaste. Come state? Bene. Bene, bene. Bene, bene. Io ho perso il giugno tantissime volte, quindi se voi avete perso l'equilibrio... Comunque mi ricordo che domani è digiuno. Domani o stasera, quindi? Domani. Domani? Ma che avevo letto domani? Sono me la Valentina aspetta. Ah, eh. Domani è in domani. Forse era oggi, non l'ho riguardata. No, è domani, 23. Ah, ho segnato domani. 23. Ah, aspetta che ve lo dico con sicurezza gli orari. Allora va avvisata la Valentina. Eh, vabbè, non lo farà indifferita. Perché era dalle 5 alle 5, ma non mi ricordo se è pomeriggio. Allora oggi è? Però... Oggi è il 22. Allora no, hai iniziato oggi alle 5 e 6. Allora è maggio e la Valentina. Vabbè, però siamo in tempo. Allora 5 e 16 del pomeriggio e finisce domani alle 6 e 5 del pomeriggio. Io l'ho andato al 23, non so perché. Comunque siamo in tempo, bisogna non cenare. Sanna. Aspetta. Non l'ho più preparato. E oggi? No. Francesco, l'ho vinto domani, gliel'avevo detto domani, non niente. Francesco, deve iniziare l'ora. È andato a mano. No, ma ti vuole un po' di preavviso psicologico perché... Sono triste. Sono rimasto male. Io ho già il cibo pronto per stasera. Male, male. Eh, sono rimasto male. Male, male, male. Non c'è niente pronto, quindi a me mi va bene. Io sto per mettere l'acqua per la pasta. Va bene, bimbe. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Siamo domani. Sì, ciao. Aspetta, aspetta. Io vorrei sapere solo una cosa. Che gliel'ha detto che oggi è Kadashi? No, sì, perché stavo... No, lei ce l'ha detto, Francia. Io ormai pensavo di essere ormai passata. Invece no, non c'hai la scusa, vedi? Ho anche mangiato poi no oggi. Brava, meglio. Io gli ho passato l'acqua in oggi, quindi è andata male. Io ho mangiato un chiamettino piccino, un vegano, guarda. Va dolore di andare in vacanza. Mi sa che c'è da scherzare. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.